è arrivato insomma momento di grande emozione qua è arrivato davvero è arrivato proprio adesso tra un paziente e l'altro abbiamo mollato la sala operatoria con antonio big abbiamo appena finito un mega intervento all'anca e troviamo fuori il container appena arrivato massimo grande soddisfazione siamo tutti molto contenti ora lo apriamo e cominciamo a dire fuori le cose